The Morning Show, Radio Globo Allora, prima stavamo parlando di questa situazione, no? Dei vari banchi, c'è stato questo bando Sì, c'è stato questo bando, insomma, di Piazza Ravona per il classico mercatino Ci sono un po' di anni, come voi vedete, insomma, tutti i romani lo sanno vent'anni fa Piazza Ravona era bellissimo, tutti i bambini andavano c'erano tante bancarelle, molto bello Negli ultimi anni, invece, è diventato molto squallido ci sono meno bancarelle ci sono veramente delle attrazioni che sono piccole per essere il mercatino tradizionale natrizio di Piazza Ravona Allora, il Comune ha deciso di mettere un po' in regola tutto questo e regola, soprattutto, riguarda quelle che sono le bancarelle che poi vanno lì e vendono dolciumi, giocattoli e quant'altro e c'è stato questo bando di assegnazione dei posti all'interno di Piazza Ravona Questa assegnazione viene, ovviamente, tramite il Comune di Roma e viene decisa dalla Presidenza della Commissione del Commercio e il Presidente è Andrea Coglia che dovremmo avere al collegamento Al telefono con noi, sì Buongiorno, Andrea Coglia Buongiorno a tutti Allora, Coglia ha detto che la nuova festa della Befana premierà a qualità, sostenibilità e artigianato Coglia, io so che lei ha solo pochissimi minuti quindi, almeno per quanto mi riguarda, vado subito al punto si è trattato in un bando anche Salvatredicine così come viene chiamato giornalisticamente ma mi spiega perché, per esempio, e se è vero che 16 dei 51 posti disponibili sono tornati alla famiglia Tredicine che ricordo che c'era anche un ex consigliere di Forza Italia all'interno del Consiglio Comunale che ha fatto parte anche, che è stato anche condannato in mafia capitale ecco, è vero che ci sono 16 dei 51 posti che sono a nome Tredicine o a famiglie che si rifanno a questa famiglia? Allora, innanzitutto definire Salvatredicine il bando o la delibera 30 è un'artefazione volta a creare un'associazione inesistente tra il Movimento 5 Stelle che rispetta la legalità e una famiglia che è un esponente insomma, che era in mafia capitale e questo è, sono partite diverse querele sia di gruppo che di persona su questa cosa quindi, sinceramente, ecco non mi piace questa associazione Ah, io le sto dicendo quello che ovviamente viene detto quindi noi riportiamo quella che è la dialettica Ce l'ho con lei naturalmente io laddove viene impropriamente definito lo puntualizzo perché è importantissima questa cosa il bando della festa della Befana è riservato agli operatori del commercio sulla Repubblica e come molti, anche giornalisti, hanno osservato nel commercio sulla Repubblica esistono dei monopoli di cui uno forte di quella famiglia che non è, scusi se la interrompo non è solamente su Piazza Navona questo per dire tutto riguarda anche il centro storico riguarda quei camion bar che vedete insomma vicino ai monumenti o piuttosto quelli che vendono le caldarroste che da anni è in mano a questa famiglia dei tredicini pensate che nel 2012 c'erano su 68 postazioni parlo di Roma, non di Piazza Navona 42 erano di questa famiglia prego Presidente è esatto e il problema è che il comune di Roma si può muovere fino a un certo punto in questo modo perché quello che si può fare in questi casi è fare delle leggi efficaci che combattono i monopoli invece le leggi non aiutano perché ci prescrivono un certo grado di anzianità in tutti i bandi però l'avete diminuita dal 40 al 20% con questo bando noi infatti abbiamo fatto un passo avanti rispetto al passato guardi l'ultima edizione è stata del 2013 di PD Alfonsi dove i tredicini erano molto più presenti e dove l'anzianità era il 100% noi dal 40% dell'ultimo bando che è andato deserto l'abbiamo ridotta al 20% tant'è vero che uno dei tredicini ha fatto anche ricorso su questo quindi per farvi capire ha anche vinto, non mi sembra che abbia vinto no? il ricorso no, non credo che sia ancora stato trattato però comunque noi ci appelliamo a una circolare del Mise che riporta la conferenza Stato-Regioni adesso andiamo sul tecnico così poi magari gli ascoltatori non interessa molto però quando lei dice che tornerà a una situazione di qualità quindi secondo lei adesso con la famiglia dei tredicini adesso a parte la percentuale di anzianità e robe varie sarà di nuovo di qualità? cioè questo è un dono che si fa ai romani o no? Allora innanzitutto sì perché se voi leggete il bando vedete che noi abbiamo imposto delle categorie molto importanti cioè la somministrazione non ci sarà in piazza non ci saranno gli alimentari non ci sarà la porchetta che c'era nelle edizioni precedenti delle amministrazioni precedenti i targate, i PD ed altri noti che oggi si lamentano di questa situazione quindi ci sarà solo generi legati al Natale alberi, presepi, artigianato però sempre natalizio ma invece quando nella campagna elettorale oppure già all'opposizione ma soprattutto nella campagna elettorale dicevate che avreste tolto tutti quelli che vengono chiamati i mutandari che invadono tutte quelle bancarelle che invadono anche vie molto importanti della capitale vedi Cola di Rienzo, vedi tutta la Tuscolana e avete preso un sacco di voti anche da tutti quei negozianti che si trovano soffocati da questi signori qua adesso invece visto che lei anche nello scorso inverno ha appoggiato e ha permesso ancora la sosta di questi signori là che cosa dice a quei negozianti? Allora, importantissimo un lavoro di un anno e otto mesi circa possiamo dire che già nel settimo e decimo municipio sono state delocalizzate delle soste usciranno questa settimana o la prossima delle determine che spostano ad esempio da via Tuscolana o da via Vasco de Gama alcune rotazioni e le mettono in dei luoghi dove sono invece, possono stare a norma di legge quindi noi ci stiamo muovendo in questo senso pur non volendo definire gli operatori in quel modo dispregiativo che non ci appartiene Quindi continueranno da esserci questi personaggi solo che spostati? Allora, queste persone non sono abusivi queste persone hanno un titolo per stare lì solo che le amministrazioni precedenti gliel'hanno concesso in luoghi dove non andava concesso Sì, però una cosa volevo capire ma i banchi sono a norma perché abbiamo visto dei banchi che veramente poi sconfinano abbiamo visto dei tendoni da circo fondamentalmente cioè quello è a norma? Allora, le maggiori occupazioni è un controllo che farà la polizia locale e deve fare anche oggi Noi chiederemo forti controlli abbiamo imposto una nuova delibera 30 molte più prescrizioni e c'è prevista anche la decadenza nel caso di violazioni ripetute ad esempio della maggiore occupazione come faceva giustamente presente lei quindi non bisogna accedere ai metri uguali altrimenti poi vedranno i titoli decadranno Per rimanere con i mutandari così ci capiamo meglio anche soprattutto con gli ascoltatori quindi pagano questi signori pagano sappiamo molto molto meno rispetto al negozio soffocato di fronte cioè quello che vi ha dato il voto che all'improvviso ha detto oh qui tanto tra PD e altri non ce la facciamo più per fortuna Riva 5 Stelle che ci promettono queste cose e poi se li ritrovano comunque lì davanti dicono almeno pagheranno quanto noi questi negoziati a quanto pare invece pagano una cretinata a confronto Ma l'ultimo diciamo gli ultimi criteri vi ha fatti Marino con il regolamento ospeccoso Sì ma adesso ci state voi adesso ci state voi ormai da un anno e mezzo ci state voi Sì 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 ma il problema non è quanto pagare che verrà revisionato quel regolamento sicuramente il problema è vedere se quel tipo di commercio può esistere insieme al commercio in sede fissa questa è la prima e più importante cosa perché se vanno in contrasto e l'un l'altro si danneggiano evidentemente bisogna sono già danneggiati i negozianti sono già danneggiati questo è indubbio proprio questo è inevitabile perché chi mi copre come quando fanno i lavori in corso mi mettono i tubi innocenti davanti non lavoro stessa cosa se ho dei bancarellari che mi soffocano vabbè però devi distinguere il regolamento dal controllo e il regolamento prevede che siano vietate le merci cappese e così nella nuova deliberazione votata in assemblea capitina il primo giugno e quindi poi qui dice il conto solo l'ultima cosa perché so che devo andare via le sembra mi dica se io no le sembra normale che all'interno di un posto dove si decide il commercio di Roma intendo il Campidoglio si è da un consigliere che fa capo alla maggiore famiglia che occupa proprio questi posti del commercio abbiamo detto ovviamente il resto noi ce l'abbiamo con i tredicini ce l'abbiamo semplicemente perché sta all'interno di dove si prendono le decisioni le sembra normale che a Roma accada questo perché sono anni che succede questo ma sono onesti no c'era un conflitto di interessi nella presenza di Consigliatura grosso come una casa da anni c'è tuttora assolutamente assolutamente quindi purtroppo queste cose succedono in Parlamento come in Consiglio Comunale infatti però parliamo con lei quindi su questo voi inciderete molto di più giusto? assolutamente noi siamo determinati quindi andremo avanti per la legalità e noi saremo lì a vedere grazie 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 The Morning Show Radio Globo Grazie